numero 5 questo è un montalatte automatico che offre due modalità di preparazione viene fornito con due fruste diverse è possibile fare schiuma calda o fredda è un modello silenzioso che funziona con una potenza compresa tra 365 e 465 watt è abbastanza potente e ci vogliono solo pochi minuti per produrre fino a 100 millilitri di schiuma cremosa a seconda dei vostri desideri potete riscaldare fino a 200 millilitri di latte va anche notato che questo scaldalatte ha un sistema di spegnimento automatico che protegge il dispositivo dal surriscaldamento viene fornito con una frusta extra e un mixer nonché le istruzioni per una facilità d'uso ottimale trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 il montalatte automatico no bird è un modello multifunzionale che offre tre diverse modalità di preparazione emulsione calda emulsione fredda e riscaldamento del latte facile da usare basta premere il pulsante on off sul manico per accenderlo poi seleziona il pittogramma corrispondente alla modalità di preparazione desiderata e via in soli due minuti puoi fare fino a 160 millilitri di crema perfettamente liscia e setosa o riscaldare il latte fino a 350 millilitri ha anche una funzione di spegnimento automatico un design a doppia parete che isola perfettamente il calore e un rivestimento antiaderente che favorisce una cottura perfetta trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 il melitta cremio secondo si adatta a tutte le esigenze quando si tratta di fare una schiuma cremosa per qualsiasi tipo di preparazione di latte i tre programmi e l'elemento riscaldante da 450 watt possono essere utilizzati per fare schiuma calda o fredda e per riscaldare il latte con questo aeratore per latte puoi fare tra 100 e 150 millilitri di schiuma cremosa e riscaldare 100 e 200 millilitri di latte in meno di due minuti il serbatoio è graduato il che rende facile misurare il latte per una cottura pulita senza traboccare la maniglia ergonomica rende facile tenere la macchina è silenzioso e ha uno spegnimento automatico trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 questo montalatte consiste in un contenitore rimovibile a forma di lattina da 125 millilitri che si trova su una base rotante a forma di tazza a 360 gradi per il rivestimento sono stati scelti materiali di prima qualità per garantire la resistenza e la durata del dispositivo non è solo esteticamente piacevole ma è anche facile da usare e comodo da tenere grazie ai suoi 500 watt di potenza puoi ottenere schiuma calda o fredda molto rapidamente basta versare il latte nel serbatoio e premere il pulsante di accensione la frusta magnetica fa il resto dopo l'uso si pulisce facilmente a mano con un po di detersivo se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca i link in descrizione numero 1 questo montalatte elettrico è un bellissimo accessorio che si distingue per il suo design e il suo colore in termini di struttura consiste in una base di riscaldamento in plastica con piedini antiscivolo sotto la quale c'è un vano per il cavo di alimentazione d'altra parte c'è una ciotola in acciaio inossidabile a forma di brocca che si adatta facilmente al supporto centrale è un apparecchio molto efficiente che vi permetterà di riscaldare il latte o fare la schiuma in due o tre minuti è dotato di due fruste magnetiche per preparare 200 millilitri di schiuma e per riscaldare fino a 500 millilitri di latte acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione Grazie per la visione!